All'Aquila è caccia alla ricevitoria che ha venduto il biglietto vincente della Lotteria Italia di seconda categoria. Al momento nessuno ha rivendicato la paternità del biglietto e l'ironia corre anche sui social, dopo che si è diffusa la notizia che uno dei biglietti vincenti potrebbe essere nel capoluogo. Una ricerca abbastanza ardua perché il biglietto potrebbe anche essere stato venduto in un autogrill di passaggio e dunque registrato in zona L'Aquila. Qualche telefonata alle tabaccherie aquilane. Molti tabaccai rispondono subito ridendo sappiamo perché ci chiamate ma no, non siamo noi. A questo giro Roma si conferma capitale della fortuna con il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro venduto nella capitale ma qualcosa becca anche l'Abruzzo. All'Abruzzo grazie a qualche biglietto vincente vanno 220 mila euro. Il più ricco di categoria come si diceva va all'Aquila per 100 mila euro, una cifra non elevatissima ma che allieterà sicuramente la vita del fortunato o della fortunata che inizia l'anno in maniera più bella. Il biglietto vincente per il quale si cita la città porta la sigla C144953. Verosimilmente le tabaccherie potrebbero anche e ancora essere impegnate nelle operazioni del ricontrollo delle sigle. Gli altri tagliandi fortunati sono andati a Poggio Fiorito, paese di 828 anime, Torino di Sangro in provincia di Chieti, due a Pescara e l'altro a Colonnella. Le quattro province al completo insomma sono state toccate dalla dea bendata. L'Abruzzo peraltro è andato in prima serata anche con un piccolo spot sul turismo, visto però da milioni di italiani. La tradizionale estrazione dell'epifania è avvenuta durante la puntata dei soliti ignoti condotta da Amadeus. In Abruzzo della Lotteria Italia sono stati venduti 166.880 biglietti, la cifra più alta di biglietti venduti si è registrata nel Lazio. All'Aquila ne sono stati venduti 45.920. L'Aquila già lo scorso anno fu toccata dalla fortuna, anche se il premio più alto di un milione di euro risale al 7 gennaio del 2014, a quanto pare mai ritirato e che fu venduto all'autogrill Valle Aterno Ovest in direzione Roma.